Il prefetto Mario Tafaro, commissario straordinario dell'amministrazione provinciale di Taranto, è giunto al termine del suo incarico. Come noto, infatti, domenica 28 si eleggerà il nuovo presidente della provincia. Tafaro, nominato a maggio del 2013, quando il presidente eletto Gianni Florido si dimise per le vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto, oggi il commissario ha voluto salutare i giornalisti ed ha colto l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività svolta. Ascoltiamo. Ho potuto constatare quanto drammatica sia la situazione di questo territorio e soprattutto la gente che ci vive, dei bambini che vivono e mi auguro che, così come ha preannunziato dal presidente del Consiglio, vengano posti in essere tutte le iniziative necessarie. Vuoi a garantire una sicurezza sul piano della salute dei cittadini che vi abitano, vuoi anche a garantire uno sviluppo economico ed occupazionale del territorio. Ho vissuto, come sempre ho vissuto, le mie esperienze professionali con spirito di servizio, ponendomi in una situazione di terzi età e di equidistanza dalle parti e cercando di affrontare i problemi a servizio della collettività. Questa è stata ed è la mia forza, per cui a fronte di critica o di altro, se ero convinto di agire nell'interesse pubblico, sono andato avanti per la mia strada senza starmi a curare di altro.